Un concerto di musica classica per il campus universitario di Ravenna. Venerdì 10 maggio alla Basilica di San Francesco ospiterà il primo concerto di lato dell'Università per la vita culturale ravennata, reso possibile grazie alla Fondazione Fanti Melloni ad Emilia Romagna Concerti e ai musicisti della Young Musician Orchestra, diretti da Paolo Olmi ai quali si affiancherà il coro delle Voci Bianche del Teatro Comunale di Bologna. La serata, ad ingresso gratuito, che verrà replicata il giorno successivo a Bologna, sarà preceduta dalle tradizionali prove dell'orchestra, eseguite a porte aperte. È la prima volta che lo proponiamo. Noi desideriamo proporre iniziative culturali che vadano oltre anche i nostri laboratori, i nostri uffici, le nostre sedi. Il linguaggio universale della musica è una cosa che è di particolare prestigio, ma soprattutto abbiamo avuto l'occasione di mettere insieme il maestro Olmi e la Fondazione Fanti Melloni, che sovvenziona questo tipo di attività, è una fondazione dell'università, peraltro. E quindi anche noi, appunto, nella nostra sede di Ravenna abbiamo voluto fare quello che l'Università a Bologna fa spesso, cioè appunto di rendere disponibili e organizzare e fare iniziative culturali. Qui a Ravenna abbiamo trovato anche il supporto del Comune e quindi siamo certi di proporre ai nostri studenti, ma alla cittadinanza intera, qualcosa di nuovo, originale e speriamo di poter avere anche occasioni future di farlo. Questa marcia di avvicinamento al concerto del 10 maggio avrà un percorso un po' particolare, porte aperte alle prove. Come funzionerà? Noi cominciamo a provare il 9 maggio pomeriggio nella Chiesa di San Francesco e mi piacerebbe che gli interessati venissero anche solo per pochi minuti, sia per vedere qual è il nostro lavoro, perché sembra sempre che i musicisti suonino così, ma in maniera naturale, ma invece dietro c'è tanto studio, tanta ricerca, tanta applicazione. E poi perché vedendo come si prova un pezzo, che quindi viene provato in fasi successive, si capisce benissimo come il pezzo è composto, si compisce la geometria e anche la logica del pezzo, che non sono in contraddizione con la bellezza. E sono sicuro che i ragazzi dell'orchestra che vengono da tutto il mondo saranno molto contenti della presenza, per esempio, dei loro connazionali o anche dei loro coetanei. Doppia serata, una Ravenna e una Bologna, quale sarà il programma? Il programma sarà in parte incentrato sul concerto per quattro violini d'orchestra di Vivaldi e il concerto per due violini d'orchestra di Bach, perché in questo modo facciamo suonare come solisti sei dei nostri elementi di punta, ai quali a turno chiediamo appunto di esibirsi da soli. Poi ci sono tre brani con il coro di Voci Bianca del Teatro Comunale di Bologna, abbiamo scelto questo coro anche qui per motivi anagrafici, sono comunque bambini, quindi vicini all'età dei nostri musicisti. Poi però chiudiamo con un pezzo di grandissimo organico, quindi l'orchestra passerà da 30 a 80 elementi, che è l'uvertura accademica di Brahms. Accademica perché Brahms, quando gli conferirono la laurea onoris causa dell'Università di Breslavia, volle sdebitarsi scrivendo questo pezzo che finisce con l'inno universitario il Gaudiamo Sigitur, ma contiene al suo interno anche tanti spunti musicali della goliardia tedesca che allora da quel pubblico erano subito riconoscibili e quindi davano piacere e soddisfazione agli ascoltatori.